Responsabilità, bell'omaggio, signori, Jasmine. Seguendo le mani, io adesso mi sogneremo di impagniarmi di osso, nel domingo autunno che scende l'improvviso. Seguendo le mani, tengo la velocità di questa esistenza, che sogni più non ha, adesso. Lei sorprende, non mi sta il treno noturno che scavalchendo. Questa notte è il raggiungibile che porti in sieli invisibile. Esattamente ecco, io non so più, però dovunque fossi tu. Come il progetto, ma di questa mia son, sai non ricordo quanti a me avrà. E' un po' di anni di allora, e cambiare un po' di lei ancora. C'è un po' di mani, per questa vita mia. Mani, mani, che cosa vuoi che sia adesso? Non è solamente riuscire a liberare, ma è il notturno che scende l'improvviso. Di questa notte è il raggiungibile che porti in sieli invisibile. Non è solamente riuscire a liberare, ma è il raggiungibile, ma è il raggiungibile, ma è il raggiungibile, ma è il raggiungibile, ma è il raggiungibile. Grazie.